Grazie. 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 Negli anni 40, prima dell'era della televisione, nacque un genere cinematografico che il pubblico amò veramente. Si trattava di film in bianco e nero, pieni di ombre e di strane angolazioni della telecamera. Veniva chiamato film noir e venne utilizzato da alcuni dei più grandi registri del tempo, Orson Welles, Otto Preminger, Billy Wilder, Howard Hawkes e John Huston. E questi sono solo alcuni degli innovatori che ci hanno regalato uno stile che ha influenzato i cineasti di tutte le generazioni successive. Questi film hanno rappresentato una netta rottura stilistica con grandi lavori in studio che li avevano preceduti. I temi che trattavano, mistero, romanticismo, pericolo, cinismo, ci hanno regalato alcuni dei protagonisti e dei momenti più memorabili nella storia del cinema. ... ... ... ... ... I'm looking for a good mystery. I tell you, I didn't do it. Give me a break, somebody! I never had a square deal in my life! I feel all dead inside. I'm back up in a dark corner. And I don't know who's hitting me. I don't want to die. Neither do I, maybe, but if I have to, I'm going to die last. You've never seen me before tonight? Every guy's seen you before. Something. You didn't hear about me, Gabe. If I'd been a ranch, they would have named me the Barna. You mean you're afraid of me? Silly boy. I like that. I'd like more. They'd be hanging you for a thing like that. Oh, but not if we do it right. They're not going to hang you. Because you're going to do it and I'm going to help you. Who was murdered? I was. You promised me to be a good girl. I've got the falcon. You may have the falcon. But we certainly have you. What's your riken? Private Dick. 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 Private Dick.